buonasera buonasera a tutti rieccomi con voi al termine della lunga giornata lavorativa ma questo che invece è un passatempo ma sempre più elaborato sempre più eh interessante e soprattutto sempre con nuove motivazioni e nuove evoluzioni che si stanno presentando in questa estate e ci sono le conferme per quanto riguarda il caldo che è in arrivo ma che oggi ancora soprattutto nelle regioni adriatiche e ioniche non si è proprio visto anzi abbiamo temperature anche leggermente sotto sotto media una piacevole brezza che che spira dai quadranti nord orientali eh o meglio un vento comunque moderato anche che spira dai quadranti nord orientali si sta bene il caldo inizia a far sentire viceversa al nord ovest Toscana dove c'erano trentacinque gradi a Firenze ancora però siamo su valori elevati ma nulla di eh allarmante però però il caldo sta arrivando nei prossimi giorni eh eh diciamo arriverà con le modalità che vi ho detto due ondate distinte di cui la più intensa appare proprio essere quella intorno a cavallo della seconda terza decada venti ventuno eh di eh luglio e a seguire inizia a ehm a palesarsi sempre meglio quella che dovrebbe essere una rottura un break temporalesco eccolo guardate queste che ehm a differenza di di delle emissioni precedenti inizia a comparire con una certa costanza nel modello americano e che comunque anche negli spaghetti cioè le emissioni di prova le emissioni che ci dicono la validità di quella che è la previsione che stiamo osservando eh compaiono con sempre più frequenza una diminuazione delle temperature eh abbastanza netta marcata intorno dopo il venticinque luglio quindi gli ultimi giorni del mese di luglio potrebbero vedere finalmente una un break temporalesco di maggior rilevanza ed è questo che ora vi vado a mostrare questa serie di fasi che vi ho eh cui vi ho accennato e guardiamole insieme questa qui è la carta del modello americano vedete come avanza da ovest guardatelo bene da ovest proprio eh questo diciamo il promontorio eh dell'alta pressione africana che ha il suo core proprio nel eh nella Spagna dove sono registrate oggi quarantaquattro gradi in eh nei pressi di Siviglia Siviglia ha fatto quarantatré e mezzo ma siamo là insomma eh questo che è diciamo il core del caldo la parte più intensa vi faccio vedere l'animazione come si avvicina verso le nostre regioni ma resti comunque ancorato più a ovest dell'Italia quindi soprattutto al nord-est ad esempio infiltrazioni fresche continuano a esserci fino al weekend dove si affermerà l'alta pressione ma sempre accompagnata da qualche disturbo sul lato orientale poi a metà della prossima settimana la fase più intensa ecco qui questo è mercoledì giovedì della prossima settimana e qui ci sarà una eh diciamo una versione calda africana più intensa che potrebbe far raggiungere punte di quarantagradile nelle nostre regioni però però guardate come prosegue il modello questa è una delle tante emissioni anche questo vedete come i colori proprio è intuitivo si schiariscano a soprattutto al centro nord dove si abbassa quindi il flusso perturbato atlantico intorno al venticinque e giunge eccolo qua anche questa emissione eh fa intravedere un peggioramento abbastanza definito e soprattutto l'entrata di aree molto più fresca nel Mediterraneo e anche per un lungo periodo guardate qua com'è e vi affianco sempre alla solita carta che vi mostrerò poi molto meglio nelle nelle mie elaborazioni ma guardate qui ancora fresco vedete nel lato orientale ancora stasera stanotte fresco al sud poi arriva la prima ondata che vi mostrerò dopo eccola qui eccola questa è tra eh nel film proprio nel weekend i venti gradi a mille e cinquecento metri di quota che significa caldo africano ci sono una lieve flessione eccolo qua la flessione del caldo qualche temporale probabilmente tra lunedì e martedì la prossima settimana eh in Adriatico e poi a metà della prossima settimana arriva la parte più intensa eccolo qua con ventidue ventitré gradi a mille e cinquecento metri di quota questa è la seconda ondata che ripeto sarà tra giovedì e sabato della prossima settimana e che potrebbe condurci ad avere temperature eccomi qua eh anche con punti di quaranta gradi eh nelle nelle aree interne lontano dal mare della penisola e questa vediamo se potrebbe essere la la fase più intensa dell'estate chi chi lo può dire ma vi faccio vedere a questo punto eh proprio per diciamo in parte anche tranquillizzarvi quelle che eh che sono le mie elaborazioni che eh che ho fatte che vi riassumo ora eh in quattro slide come al solito allora guardate bene questa è la più venti indica sperimentalmente nel senso con esperienza che che è degli anni eh a mille e cinquecento metri di quota indica una avvezione calda africana cioè arrivo di aria calda matrice africana che eh non può avere queste temperature con con una diciamo un'influenza azzurriana eh l'anticiclone dell'azzurri eh porta valori generalmente tra compresi tra i quindici e i venti gradi a mille e cinquecento metri di quota quando si sale oltre i venti vi dico per esperienza in tutti questi anni può essere solo caldo africano e in questa prima fase nel weekend di trentacinque trentotto gradi in città interne come Firenze anche Roma Foggia Cosenza eh Catania insomma saranno assolutamente possibili eh e eh al nord o qualcosa in meno e guardate qui come eh questa è la carta tra il sabato notte e sabato sera come al nord est arrivi già un piccolo disturbo in temporale già nord est magari nel weekend eh che poi proseguiranno e scenderanno giù lungo la dorsale appenninica e soprattutto in Adriatica nello Ione probabilmente tra lunedì e martedì eh quindi insomma una bella rinfrescatina ci sarà ma poi arriva eccolo qui questa è la carta compresa giovedì notte della prossima settimana quindi tra il ventuno e il ventidue calda matrice africana secondo step e qui i punti di quaranta sono possibili perché guardate la le isoterme dei venti gradi a millacinquecento metri di quota praticamente circondano proprio l'Italia è proprio un una diciamo una direttrice del caldo che parte da qui e sale eccola qui ve la voglio proprio disegnare bene eccola qua la direzione arriva proprio dall'Africa dall'Algeria il caldo arriva nelle nostre regioni qui punte di quaranta gradi saranno possibili in questa fase c'è poco da fare ma poi guardate qui eccola qua che bella carta questa è per tra il ventotto ventinove è una ancora un anticipazione ovviamente molto lontana ma ecco una potente saccatura dal nord atlantico che questa si porterebbe valori molto più freschi e soprattutto temporale anche violenti ve l'ho detto l'altro giorno ve l'ho anticipato sembra che questo aspetto venga confermato nei modelli e che possa ripetersi e quindi eh non si tratta solo di speranze comunque molto vaghe ma qualcosa di ehm diciamo tangibile inizia ad essere confermato e guardate qua questi sono gli spaghetti il cosiddetto grafico spaghetti per Roma eh vi vi ricordo rapidamente di cosa si tratta quindi sono è la temperatura sempre a mille cinquecento metri quadrati cioè è un modo per dire che tipo di aria è sopra le nostre teste la linea rossa è la media delle temperature su scala trentennale e quella bianca con tutte le altre sono le elaborazioni con la media che appunto è la linea bianca che ci dice che a partire da da adesso fino a quasi alla fine del mese per esempio su Roma sarà sempre sopra media quindi l'ondata di caldo è pesante da questo si vede che è pesante a prescindere dai picchi che ci saranno sarà lunga questo causa parte il disagio molto spesso in assenza di eh ventilazione causa un aumento dell'umidità con il passare dei giorni che significa quindi disagio e aumento delle temperature minime ricordate bene questo che è da molto fastidio il 2003 è stato caratterizzato proprio in questo modo cioè lunghissima delle delle avvenzioni calde e poi è mano a mano aumento dell'umidità e aumento delle temperature minime e per questo non si stava mai bene ma poi eccolo qui guardate qua il break si vede per adesso non indica un gran freddo nel senso si rimane addirittura supermedia nella media ma c'è un abbassamento netto e alcuni cluster i cosiddetti ve li faccio e ve li ve li punto proprio vedi in questa zona qui alcune emissioni di prova puntano proprio verso il basso cioè un arrivo di aria molto più fresca e decisamente quindi un altro tipo di tempo che può arrivare a fine mese eh ecco qui allora adesso mi interrompo la condivisione quindi qualcosa di più concreto si intravede che può arrivare a fine mese prima abbiamo il caldo una settimana di caldo non distribuita eh uniformemente dappertutto perché mentre la versante adriatico abbiamo detto tra domenica lunedì martedì ci sarà una pausa eh se poi su bassa adriatica ionio consideriamo che ancora si sta bene su nelle regioni più orientali per adesso il gran caldo non si vedrà in quelle più occidentali il discorso è diverso già fa abbastanza caldo eh nord ovest eh tutto il tirreno lì eh c'è medio alto tirreno eh fa caldo e ne farà ancora di più quindi su queste zone e quindi città come Roma, Firenze, Torino, Milano eh purtroppo eh assecondano quello con un trend già visto in questi anni cioè aria calda che arriva da ovest cioè africana ma che eh fa un giro un po' largo e poi arriva da noi da da ovest e quindi per queste città probabilmente ci saranno cinque sette giorni di caldo quasi ininterrotto quindi diciamo si passerà dai trentasei trentotto magari a trenta due trentaquattro ma insomma farà caldo poi poi a fine mese può darsi che qui ci sarà una rottura eh che in quel nel caso di questa carta ve la rimostro nel caso di questa carta guardate bene arriverebbe proprio dal nord atlantico quindi le prime regioni ad essere interessate da una rottura eh decisa marcata con valori molto più bassi temperature e fenomeni violenti saranno proprio quelle del nord e delle regioni tirreniche quindi si inverte quello che è l'assetto attuale quindi questa è una speranza seguiamo passo passo e eh e soprattutto iscrivetevi al canale youtube siete sempre di più grazie molte non mancate e seguite giorno dopo giorno perché l'evoluzione si sta delineando è sempre più interessante io ve la riporterò con con grande costanza giornalmente ciao a tutti e buona serata